buongiorno a tutti quest'oggi vogliamo presentarvi lei che è una nostra personale creazione partiamo con questo primo progetto con l'idea di creare per il 2023 delle serie limited by dr bike di prodotti ieti in questo caso parliamo di un sb 150 quindi un prodotto di 2022 della istica versione turc quindi abbiamo il factory sullo switch infiniti e il carbonio con più alto pregio e quindi peso più alleggerito come potete vedere il montaggio è custom abbiamo una 38 con fodere arancioni factory manubrio e attacco manubrio rental carbon freni xd a quattro pistoni come il resto anche del gruppo completo reggisella factory da 175 questa è una taglia m sospensione che posteriore factory ruote di t e 1.9 per un ottimo rapporto qualità prezzo parliamo di una bici che pesa 14.9 montata molto la discesa quindi abbiamo anche i dischi galtart a 203 pensata nei minimi dettagli per dare un ottimo rapporto qualità prezzo e soprattutto un'estetica da url passate il negozio per venirla a toccare col mano grazie ciao